Negli oliveti abruzzesi si raccoglieranno nella stagione 2014 circa 160.000 tonnellate di olive in meno, pari a 20.000 tonnellate di olio. Una perdita dell'80% della produzione che tradotta in moneta corrisponde a 80 milioni di euro che verranno a mancare ad un totale di circa 25.000 imprese su ben 45.000 ettari di terreno dedicato. Abbiamo una forte riduzione della produzione delle aree, circa il 50-60% alle prime stime, così per il lavoro relativamente ai frantoi. Una situazione allarmante che riguarda tutta la regione, con particolare riferimento alle province di Pescara e Chieti, su cui già a luglio Coldiretti aveva messo in guardia gli uffici regionali, chiedendo l'avvio del monitoraggio da parte dei tecnici per la verifica della situazione. Insieme ai consorsi, insieme alle organizzazioni di categoria stiamo procedendo verso la richiesta della calamità naturale, sia per problemi di meteo ma anche e soprattutto per la mosca olearia che ha causato questi problemi. La richiesta della calamità naturale va in questo senso, per cercare di indennizzare i produttori e i frantoi circa la situazione gravissima di quest'anno. Speriamo di dare una risposta quanto prima e soprattutto avere attenzione da parte del Governo centrale.